ciao a tutti bentornati sul canale amo gli italiani il matrimonio tra la nota conduttrice di domenica in mara veniere suo marito nicola carraro sembra essere giunto al termine i due sarebbero intenzionati a separarsi ecco cosa sta succedendo proprio in queste ore domenica in e il talk show domenicale di mara veniere amatissima conduttrice italiana la zia mara con il suo programma intrattiene moltissime persone e scava nella vita dei volti più famosi della nostra tv talvolta riesce a estrapolare dai suoi ospiti delle succose notizie di gossip questa volta è lei ad essere al centro dei riflettori però per via del suo matrimonio la separazione bussa alle porte ecco cosa sta succedendo nella sua vita sentimentale nella puntata di ieri più breve del solito per via della cerimonia di inaugurazione dei mondiali di calcio in catar la conduttrice veneziana accolto nei suoi studi volti noti di ballando con le stelle programma condotto da mili carducci tra questi guillermo mariotto rossella erra anna pettinelli ema stoccolma e alessandro egger tra le interviste fatte anche quella ema stoccolma conduttrice radiofonica che in questa edizione si è cimentata come ballerina guidata da stefano madonia la cosa interessante è che molti credono che tra i due ci sia un certo feeling e che quindi stia nascendo l'amore anche alberto matano amatissimo conduttore della vita in diretta ha confessato in collegamento telefonico il presentimento lui concorda sembra che i due si piacciono ema ha messo a tacere le voci così bisogna andarci piano no la venier d'accordo con quanto appena affermato ha aggiunto quando è una cosa bella secondo me va conservata e va protetta e proprio qui arriva il bello perché la conduttrice ha approfittato del momento di ironia per parlare delle voci che speculano su diverse coppie sottolineando che non tutte riportano una narrazione corretta proprio partendo da questo inserisce il discorso della presunta separazione da suo marito nicola carraro mi ha chiamato ieri una mia amica e ha detto di aver letto che mi sono separata io ho chiesto ma da chi basta che mio marito vada santo domingo che pensano che ci siamo lasciati ha raccontato mara venier chiarendo che tra loro le cose vanno benissimo e che il loro matrimonio non è assolutamente al capolinea come si vociferava suo marito infatti è solo partito per santo domingo e presto sarà di ritorno a casa tutto è bene quel che finisce bene grazie per aver guardato l'intero video metti mi piace commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità ci vediamo nei prossimi video ciao ciao ciao